Siamo messi veramente male perché con una perdita del 40% del prodotto tra la calura estiva e un po' la peronosfora diciamo che c'è pure un danno permanente creato alla vite, all'olivo, perché questa siccità non è che ha fatto il danno solo per quest'anno ha fatto il danno per diversi anni. Si va a potare e non si trovano i calci, si va in cantina e non si trovano i soldi perché la cantina rimane da sempre quella miseria standard che non riesce a favorire questi ragazzi, a crescere e a venire fuori con un compenso eco per poter tirare avanti e siamo veramente arrivati allo stremo. Da noi funziona che le cantine sociali, le cooperative sociali pagano diciamo 2023 ecco, finiranno di pagarlo entro il 2027. Le spese di gestione dell'annata hanno superato i ricavi dell'anno scorso, quindi noi abbiamo messo di tasca nostra i soldi depositati nei nostri conticini, che chiamavoli conticini perché un agricoltore non ha un conto in banca miliardario specialmente qua in Sicilia, che se parliamo del nord è una situazione totalmente diversa. Io non ho ancora calcolato nulla, posso solo dire che quella miseria che le cantine ci hanno dato mi è bastato se no per pagare i prodotti fitosanitari e i trattamenti di quest'anno, gli operai e se no prendere un po' di gasolio per continuare l'attività agricola 2024 ecco. Adesso sono a zero, in pari. E adesso cosa fai? Eh, adesso mi butto al mare ecco. Molte cantine dal nord fanno i miliardi col nostro vino e i nostri soldi dove sono? i nostri soldi, il nostro vino viene venduto a 30 centesimi, a noi pagano 30 centesimi al chilo è veramente una vergogna, cioè 30 centesimi pagano il nostro vino mosto feccioso cioè io porto vino ammuffito in cantina? Stiamo scherzando o forse è una cosa solo nostra siciliana? quindi io vorrei vedere questa feccia da dove... Cosa grave che stai dicendo? Ma posso dimostrare, è scritto nero su bianco, non è che me lo sto inventando oppure... quindi vorrei capire il perché. La politica proprio ha divendicato la Sicilia, è una cosa proprio ben diversa i soldi arrivano alla regione, la regione c'è chi dorme a destra e chi dorme a sinistra io sono un giovane, ho 26 anni, questa è la mia mentalità è un'Italia che invecchia e anche quando il papà viene a dire ci sono più cani che bambini sì, ok, è vero come fa un ragazzo a 26 anni ad affrontare un mutuo per farsi una casa? ad affrontare una famiglia? a cercare di fare figli? ma dove deve andare? ma come deve fare?